Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Oltre ad una notevole e vivacissima intelligenza, il debutato irpino Gianbrancolo Tonti è notoriamente dotato di uno spiccato senso dell'humor. Ieri, in un'intervista al quotidiano del Sud, si è superato. Ha detto che per vincere le elezioni regionali in Campania, il centrodestra dovrebbe candidare l'ex governatore della Lombardia Roberto Maroni, dove è l'humor nella sottile allusione al fatto che De Luca ha rotto i maroni.